Eccoci qua, per chi non l'ha riconosciuta, lei ha fatto un favoloso spettacolo a cui ho visto per la prima volta, al Miss Butterfly, lei è Marisol di Roma, raccontaci un po' della tua vita statistica. Buonasera, come ti ho detto ti vorrei ringraziare per le tue parole, due spettacoli di settimana scorsa a Milano. La mia vita è così, una settimana qua, una settimana là, per la ferrovia dello Stato, facendo sui giorni per l'Italia. E così faccio un po' contenta a tutti e a me stesso. Lei è un'artista veramente favolosa perché è difficile vedere un playback fatto molto bene, diciamo che è una cosa rara da vedere. E io ho avuto l'onore e il piacere di vedere il suo spettacolo che sono rimasti sbalordita. È stato veramente un spettacolo. Sei favolosa, complimenti di nuovo. Le aspettative per questa sera? Beh, di vedere un bel spettacolo, una bella festa, come sempre. Gisela Gaucho sta ogni anno si superando, facendo delle feste bellissime. Ho avuto l'onore di fare il spettacolo del primo concorso, due anni fa. Lo secondo non ho potuto venire e oggi sono qua come ospite d'onore. Fa piacere, grazie mille. Grazie a te. Amore, pezzi e parola. Grazie a te. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down.